Sul tema della scuola, formazione professionale, mondo del lavoro per il quale si rende indispensabile una sinergia per soddisfare la specifica domanda di manodopera professionale specializzata da parte delle aziende, nei giorni scorsi si è svolto a Sansepolcro un incontro fra i rappresentanti delle categorie economiche, il presidente della Camera di Commercio Aretina, Giovanni Tricca, i dirigenti degli istituti di istruzione superiore della Valtiberina, con la partecipazione di imprenditori, industriali e artigiani locali. L'esigenza evidenziata dalle aziende e dai propri rappresentanti di categoria è stata essenzialmente quella di poter contare su studenti diplomati nei vari istituti del territorio con un livello di professionalità usufruibile nel più breve tempo possibile. Si rende quindi necessaria, assieme a una approfondita analisi dei bisogni da parte delle imprese, anche una formazione professionale che renda più cogente l'incontro con la scuola, anche prima del conseguimento del diploma. Il presidente Tricca ha proposto la creazione di un tavolo locale permanente di confronto su tale argomenti, trovando l'unanime accordo delle parti sociali. I rappresentanti delle categorie economiche presenti hanno ritenuto indispensabile il coinvolgimento del provveditorato agli studi per il suo ruolo istituzionale di coordinamento e sollecitazione verso gli insegnanti. Il presidente Tricca ha quindi assicurato l'interessamento dell'ente camelale e si farà portavoce della volontà manifestata nel corso della riunione all'interno di un prossimo incontro già programmato con il provveditore agli studi a retino Alfonso Caruso.